Eccoci qui, come ogni season, a sperare che sia le spot, sia il pass, posso offrirci qualcosa di diverso e non solo vedere Thanos dall'assù in alto del suo trono a dominare tutto il gioco e anche tutti noi. Buongiorno cari, bentornati sempre qui da Kapp, bentornati sempre qui sul canale. Oggi dobbiamo andare a vedere un po' di cosa, andiamo a vedere il pass, andiamo a vedere le spot e andiamo a vedere cosa ci attende in questo mese di... Io non so voi, ma io ogni volta mi aspetto veramente tanto, da ogni singolo pass, perché serve, serve, ogni mese, quando tu mi lanci la patch, quando tu mi lanci l'iota, io mi fomento perché penso che, ok, può cambiare qualcosa, poi non cambia, dettagli. Ah, piccolo off topic, comunque io vi ricordo sempre di fare il season recap che sono 100 crediti gratuiti, basta che andate lì, prendete il vostro recap, lo pubblicate in un qualsiasi social e voi vi prendete 100 crediti che manco male sono 100 crediti. Ora, andiamo subito a vedere il pass di questo mese, no? Quello che andremo a vedere stasera è quello che andremo a provare in live. E chiedo il VAR, comunque, è l'iscrizione al canale e vi ricordo che stasera saremo in live per vedere questa benedetta season, ok? Andiamo a vedere il pass. Eccolo qui, il Thunderballs, mancano effettivamente 6 ore, giustamente. Questo è il season pass di questo mese, ok? Cosa c'è di bello? Ma fondamentalmente non cambia assolutissimamente nulla rispetto al season pass scorso, se non nelle nostre variante possibili e immaginabili, cioè ovvero questa di Dusk Master che non mi dispiace per niente. Poi che cosa c'è? Abominio? Eh, vabbè, abominio non è male. E dov'è la nuova carta? Fammela vedere intanto. Cosa fa questa carta, regà? In pratica, lui prende, assolda la carta a costo più basso del mazzo dell'avversario e la mette nella location in cui lui è stato settato. Ok? Quindi già l'effetto della carta cosa ci vuole dire? Che questa carta la va molto bene nel bounce, questa carta va molto bene nel Loki e questa carta va in un tipo di mazzo che alla fine è stato anche visto nel trailer di questa season, ovvero andare a giocare delle carte che possono andare in qualche modo a distruggere il mazzo dell'avversario. Vedi Yondu, vedi Gladiator, vedi anche Baron Zemo. Così che l'avversario non ha più carte da giocare, questo è il senso del mazzo. Ora, io voglio far vedere i mazzi. E ovviamente il primo mazzo in questione è quello con Loki, anche se questo mazzo qui a me personalmente non fa impazzire, perché giustamente io gli vorrei mettere in qualche modo anche il Collector e troppe carte a tre. Cioè troppe carte a tre, a me non piace Gladiator. Chissà quanto è impattante il Loki, dici tu, ok va bene, ti puoi switchare tutto con l'agente Colson e il Snogger da avere molte carte a disposizione per Loki. Sì, ok, però questo mazzo non mi fa impazzire. Invece l'altro è questo con Serra. Cioè avete presente il Serra con tutte le touch card che è sempre presente in ogni singolo meta, ogni singola season di Marvel Snap? Perfetto. E espressamente questo con il Baron Zemo. Qui alla fin fine lo vedo in un senso, perché alla fin fine questo è un mazzo che gioca molto sulla difensiva, molto su basarsi su quello che ha l'avversario, perché ovviamente siamo pieni di touch card. Abbiamo Shang, Mobius, Shadow King, Elsa Bloodstone con Kitty Pryde. In qualche modo può essere utile quella sinergia di Elsa con Kitty Pryde. Ma ovviamente noi non vogliamo questo, noi vogliamo il grande Silver Surfer. Che se ci pensate, anche inerente alle carte che vengono messe a disposizione in questo mese, sembrerebbe veramente che è un mese carico per il buon Silver d'Argento Surfer. Ma ci arriveremo con calma. Intanto vi faccio tenere presente che ovviamente è di costo 3, ha 5 di forza il grande Baron, come il Cigno, no? Come il Cigno, sì, è vero. Sì, come il Cigno, esatto. Eccolo qui. E infatti lo mette anche in un Bounce. Ora, io dico una cosa. Tu che mi fai questo mazzo qui? No, con il Bounce. Io sono sempre la stessa opinione. Io preferisco optare su un Werewolf all'interno di un Bounce, oppure optare per Itmonkey. Anche se Itmonkey mi piace veramente molto di più, lo sapevo benissimo. Quindi nel Bounce ce la vedo molto bene questa carta. Ce la vedo veramente molto bene. E anche, ovviamente, ricordiamolo, che lui, facendo il suo sporco lavoro che recruta la carta dell'avversario e la mette nella location, va anche in combo con anche Mockingbird. Quindi è una carta che, secondo me, va capita. Nel senso, più che altro, rispetto a Opsam, perché Opsam, cioè, come la vedi, dici, ok, questa è una carta fortissima. Questo, invece, va capito. Secondo me va capito e va capito anche nei mazzi dove lui può brillare rispetto a che metterlo in qualsiasi mazzo possibile e immaginabile. Per quanto riguarda il second pass, se prenderlo o non prenderlo, ma sapete che a me non ispira per niente il second pass di questa season? Non ispira per niente. Cioè, nel senso, non è una carta che mi viene la voglia di dire, ok, prendo il pass perché mi serve quella carta, ma prendo il pass perché, ovviamente, lo perdo sempre e perché, ovviamente, mi servono più risorse possibili. Questo è il ragionamento per il pass di sto messo. Ma ora parliamo delle spot, ragazzi. Ora parliamo delle spot. Abbiamo una, due, tre, quattro, e vabbè, questa fa parte di lei, e cinque. Ok, tutte di serie cinque, come al solito. Grazie mille che ogni volta mettiamo le carte a serie cinque. Grazie mille che ormai, e dico ormai, le serie cinque sono un qualcosa di allucinante all'interno di Marvel's Snap. Cioè, ci sono veramente tantissime serie cinque. Occorre, secondo me, subito, andare in qualche modo ad abbassare le serie quattro, le serie cinque. Bisogna un attimo abbassare perché non si capisce più un cazzo. Però noi partiamo già da stasera con una bella cartina. Il Hulk rosso, ok? Nella sua spot, ovviamente, c'è Ego, e ovviamente c'è Sebastian Show, che, tra lasciando il fatto che per me non è mai una serie cinque, Sebastian Show, una carta veramente molto forte, ma secondo me la serie quattro ci sta a pernello per Sebastian. Serie cinque no, eccessivo. Ora, che fa il grandissimo Red Hulk? Lui si buffa di quattro di potenza per ogni volta che il bro, l'oppo, flotta uno di mana, ok? Quindi potete ben tenere presente che con i deck contro dell'Alto Evo, con i deck contro dove troviamo Sasspot, è veramente molto utile questa carta, ok? È veramente molto utile, ma a primo impatto mi dovrebbe dire che è una carta che si basa molto sulle occorrenze del pro, dell'avversario, no? Perché alla fin fine se tu metti che lui ha bisogno di giocare sempre in curva e non ti flotta il mana, Red Hulk rimane pur sempre una 6-11 fattibile, ok? Quindi in che mazzi, dici tu, lo puoi utilizzare questo Red Hulk? E come vedete c'è il peggio schifo per Red Hulk, c'è veramente in qualsiasi mazzo, ecco, vedi? Qui c'è con Ronan, qui lo troviamo anche in un Ela, vabbè, Prassi, ok, ho capito. Poi lo troviamo anche in un altro Ela con War Machine, lo troviamo anche in un... in un... in un... in un... Junk così, con War Machine e... vabbè, con l'Artico. Poi lo troviamo anche in un Galactus, ma diciamo che fondamentalmente, cioè, io lo vedo bene molto in un deck del genere, in un deck con Junk. Alla fine, infine, è quella carta forte che metti che non ti serve tanto l'Ioth, ma ti serve più che altro sostanza e potenza, gli butti Red Hulk e stiamo comunque d'accordo, ok, oppure in un Alto Evo pure lo vedo bene, però c'è da dire una cosa, che l'Alto Evo c'ha già Hulk, c'ha già She-Hulk e c'ha già Infinauta. Che vuoi mettergli lì? Metti che c'è anche... c'è una persona che giocano anche Scala all'interno dell'Alto Evo, quindi mettere un'ulteriore carta a costo 6 mi sembra un attimo in eccessivo. Va capito comunque anche lui, non è che mi fa molto impazzire, eh? Proprio perché, come ho detto prima, si basa molto su quello che ha l'avversario, su quello che fa l'avversario con il Trottermano Meno, ok? Quindi non mi fa tanto impazzire. Poi, io vi consiglio in questo spot, se vi manca Sebastian, una chiavetta di buttarci, se amate il Silver Surfer, perché Sebastian Shaw è una crema con Silver Surfer, si può fare veramente tanti, ma tanti punti. Poi, la seconda settimana abbiamo il grandissimo USA Jump, ok? Abbiamo sto grandissimo soldato con lo scudo del Cap, abbiamo un effetto ongoing che fa... Che cazzo fa? perdere meno 3 di forza tutte le carte 4, 5 e 6 di costo di quella rispettiva location. Ok, quindi una carta ovviamente, che non ve lo sto a dire io, in che mazzo può essere utilizzato sto grandissimo USA Agent, il Seratossico, ok? Questa è una carta che si sposa veramente, cioè è quello, e in cui il mazzo lì lo vedo veramente bene. E come Manfing, però, è il fatto che noi possiamo metterlo benissimo con un Luke Cage e siamo belli a posto. Amen. Le altre due carte, insomma, c'è Mirage, ok, si può fare abbastanza... anche a meno di Mirage, però c'è Jeff in questo spot, quindi per chi non ha Jeff, è veramente... cioè, io pure una chiavetta dobbiamo buttare, se non avessi Jeff, gli butterei una chiavetta. Perché, se ci pensate, Jeff comunque rimane una carta veramente molto variabile, veramente molto utile, è presente in qualsiasi mazzo possibile e immaginabile di Marvel Snap, e sta comunque bene, perché è sempre una carta che ti può salvare il game. Ora passiamo alle cose più serie. Red Guardian. Cosa fa questo guardiano rosso? Lui affligge meno 2 di potenza alla carta, in quella location che noi andiamo a giocarla ovviamente, con la potenza inferiore, ok? E gli toglie anche il testo della carta, quindi io vi dico espressamente una cosa. Questo Red Guardian è l'anti-Dracula. Cioè, se voi ci pensate, non c'è, non esiste una carta che può counterare Dracula, come lo fa questa carta qui. Vabbè, ci sarebbe... l'abbiamo anche fatto in un video, l'EDD che ti distrugge Dracula. Sì, ok, va bene, però questa carta è una 3-3. Ovviamente, tutta la puoi anche tenere, perché Dracula ovviamente è di turno 4. Oppure mi verrebbe anche da pensare a un Iron Man, a un Siderbro, a un Patriot, a tutte quelle carte ongoing, che danno un potere, all'avversario, metti anche questo, pure Blue Marvel, che ha sempre 3 di forza, no? Cioè, capito? Può essere veramente molto interessante questa carta, la puoi usare veramente in qualsiasi modo, e, ovviamente, questa carta, mi verrebbe subito da pensare, di giocarla in un Silver Surfer, ok? In un Silver Surfer, perché se ci pensate, può essere definita, come Tetch Card, questa carta. Secondo me, può essere definita come Tetch Card, perché, in qualche modo, da un Malus, indipendentemente all'avversario, può essere buffata con Silver Surfer, può andare a togliere il testo di una carta come un Leech qualsiasi, però molto più mirato, capito? perché, cioè, in qualche modo, tu te la gestisci, questo Guardiano Rosso, tu te lo gestisci, e lo metti in location, in cui tu vuoi fare del male fisico. Io questa Spotlight, l'aspetto veramente tanto, perché, sia perché c'è il Guardiano Rosso, ok? Vabbè, c'è l'Eli di Goliartica, per chi non ce l'ha, ok? La Variant è strafiga, ok? Ma c'è anche l'Alto Evoluzionario, con una Variant, che è di tutto rispetto, ok? Sembra veramente quello del, del film dei Guardiani 3. Quindi, non solo c'è la carta delle spot in questione, molto bella, ma c'è anche una bella carta, Serie 5, che ti permette di fare qualsiasi bella cosa, con Hulk, con cosa, puoi fare veramente, tante ma tante cose potenti e interessanti, con questo bellissimo Alto Evo, anche se, l'Alto Evo base, è un po' calato, rispetto allo Shin Out, che si può benissimo trovare, ancora all'interno del meta. Poi, passiamo alla grandissima, passiamo alla, alla Vedova, alla Vedova bianca, con il suo, ehm, Bite, con il suo Kiss. In pratica, cosa fa questa, ehm, White, White, ovviamente, una 2 e 2, ovviamente, lei, quando viene scoperta, lancia alla location opposta, il suo Bite, ok, che dà un, meno 4, fino a che, lui, l'avversario, non si buffa completamente, non chiude, la location con 4 carte, e, poi, ovviamente, diventa una 0, 0. Allora, l'unica carta, che mi è venuta in mente, cioè, come ho visto questa carta, è, la seguente, al turno 4, mettere in una location, in cui l'avversario non c'è nulla, la Vedova, in 2, Profix. Cioè, capito, è una carta che, mi è subito saltata all'occhio, col Profix, ma, ovviamente, è una carta che va a potenziare, ovviamente, il Junk, tu con i Goblin, puoi fare, veramente, le, 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 le grosse cose con questo Byte, perché, ovviamente, l'avversario vuole andare a, eh, chiudersi il più a lungo possibile, in un campo dove c'è il Byte, e tu puoi anche, ovviamente, lanciare gli suoi Goblin in bocca, in tutte le altre location, rimanenti. Quindi, carta Junk, signori, ancora carta Junk, ovviamente, Snogard a serie 4, che mi sta bene all'interno dell'espo, perché? Perché io non c'ho la Variant, mentre ce l'ho base ancora di Snogard, quindi non mi dispiacerebbe cercare di prenderla, e Nico Minoru, che ovviamente fa il, sempre il suo lavoro, molto variabile, molto utile questa carta, Nico Minoru. Quindi già siamo a due spot, che mi interessano particolarmente, poi, chiudiamo. Con lei. Ah no, Valentino non c'è senso, raga. Valentino cosa fa? Aggiunge, alla mano nostra, una carta di 6, di costo, ma gli abbassa il costo di 2, e la potenza di 3. Direte voi, sì, ok, ma a me che cazzo me ne frega, nel senso, devi essere veramente sfortunato, che ti becca una Lyot, che ti becca un Galactus, o ti becca un Zola. Va bene, anche se Zola con 4, può essere veramente molto interessante da avere, però, se ti prende un Doctor Doom, se ti prende un Infinauta, se ti prende un Hulk, se ti prende una Shulk, tu, che c'è, tu puoi giocare al turno 4, già, ste robe, tu puoi giocare un, un Infinauta a 4, 17, puoi, puoi, ovviamente, giocare un Magneto, 4, 9, ok, che poi, va sempre sotto Shang, e ovviamente, se a te non piace la cosa, se a te non ti piace la cosa, e vuoi avere la potenza, bella, full, gli puoi giocare benissimo, uno Shadow King, per, riazzerare tutto. Oddio, sapete che l'unico dubbio che c'è, è con Luke Cage, non so se giocando Luke Cage, e, eh, giocando la carta che dà Valentina, ovviamente, ritorna, al suo potere iniziale, ma, teoricamente, sì, questa, regà, è veramente una signora spot, anche perché abbiamo Knull, una, eh, carta importantissima per il Destroy, Serie 4, va bene, e poi, c'è il grandissimo blob, signori, carta molto importante per il Thanos, quindi, questa è la spot più importante, secondo me, di questo mese. a mani basse, perché c'è una signora carta, e due signore carte delle spot, quindi, quello che vi posso consigliare io è, se voi vi interessano solamente le carte delle spot in questione, schippatene, le prime due schippatene, ma, concentratevi su, una, due, e tre, a posto, a posto finito così. Però è tutto da vedere, signori, io vi aspetto comunque questa sera in live, per andare a provare la nuova carta del passo, ovvero Baron Zemo, e andare a continuare i nostri mazzi pazzi, vi aspetto, boys. a posto finito così.